Nella solenne connince del piazzale dedicato ai martiri Giuliani e Dalmati delle Foibe a Marghera si è svolta una toccante cerimonia con la deposizione di una corona d'alloro presso il monumento ai caduti delle Foibe, resa ancora più significativa dalla presenza delle autorità cittadine e di diversi bambini di alcune classi elementari. In un clima di commosso ricordo i rappresentanti delle autorità hanno reso omaggio ai martiri rinnovando il giuramento di non dimenticare mai il sacrificio e la sofferenza di coloro che hanno perso la vita in quei tragici avvenimenti che hanno segnato la storia del nostro paese. È una cerimonia sempre molto emozionante, partecipata, un momento in cui la comunità si stringe attorno al ricordo di coloro che furono costretti ad abbandonare le proprie case, la propria terra, coloro che furono uccisi davvero in maniera atroce. Tra gli illustri partecipanti si sono distinti alcuni testimoni diretti di quella tragica pagina della storia italiana come Carlo Zoar di Castenegger nato a Zara nel 1932 la cui testimonianza personale ha contribuito in modo significativo a preservare e diffondere la memoria delle atrocità delle Foibe e dei martiri che vi persero la vita. Un fratello è finito nelle Foibe, appena finita la guerra, dopo l'occupazione jugoslava, lo hanno prelevato, detto fascista, non aveva ancora 16 anni. Morte, case e terre perse, anche il prefetto di Venezia, Darko Pellos, è un testimone di questa storia. I genitori erano esuli istriani. Il mio padre era di Pirano e oggi mi fa piacere di poterla raccontare ma soprattutto quello che voglio ricordare oltre ai miei genitori è il fatto della dignità di questo popolo istiano, Giuliano e Dalmata perché si sono ricostruite una loro esistenza in questa terra, soprattutto nel Veneto, chi ha potuto essere ospitato in questa terra e hanno confermato il legame indissolubile tra la Repubblica Serenissima, la Repubblica di Venezia e quelle terre che parlavano a Veneto, conoscevano che cos'era Leone di San Marco, sapevano che cos'era la libertà.